Buonasera e ben trovati a You Save Reds, che è il nome della nostra trasmissione, ma anche il titolo di un progetto che è molto importante. Salva il rosso, difendi la biodiversità. È per rosso, oramai da un po' di puntati a questa parte che ve lo stiamo raccontando, per rosso intendiamo lo scoiattolo rosso. Spieghiamo in che cosa consiste, qual è la finalità e l'obiettivo del progetto You Save Reds? L'obiettivo finale del progetto in questione è la conservazione della popolazione di scoiattolo rosso presente in Umbria, che significa anche poi nel lungo periodo conservare tutta la popolazione nazionale di scoiattolo rosso. Da cosa la conserviamo? La conserviamo dalla minaccia, se si può dire così, della presenza dello scoiattolo grigio americano, che è una specie all'octona, tra l'altro è una delle cento specie invasive considerate come più invasive dall'UCN, che mette a dura prova la sopravvivenza del rosso e anzi ne causa, è stato visto, la scomparsa negli areali in cui queste due specie si sovrappongono. Allora, quello che si prefigge il progetto è un'azione, tra virgolette, preventiva, cioè la prima cosa che viene contestata è che lo scoiattolo rosso gode ancora di buona salute a livello nazionale come popolazione, non è presente tra le specie minacciate. È vero, è anche vero che ci troviamo in una situazione locale, cioè in Umbria, ci troviamo, diciamo, in un inizio di scomparsa di questo scoiattolo. Cioè ci sono degli areali in cui è stato introdotto lo scoiattolo grigio alcuni anni fa, in cui il rosso è effettivamente scomparso. Ed essendo l'Umbria una regione, il cuore verde d'Italia, diciamo è inflazionato ormai questa definizione, però è vero, è una regione con altissima, diciamo, continuità dell'ecosistema boschivo, non ci sono grande aree separate, quindi senza corridoi ecologici in cui effettivamente si possono muovere le specie. Questo fa sì che lo scoiattolo grigio ha accesso virtualmente a tutto il territorio nazionale. Stiamo parlando sostanzialmente, certo, è ovvio, quindi questo è il rischio maggiore. Stiamo parlando della sostituzione di una specie che è all'octona e non autoctona, quindi non è tipica del nostro ambiente con un'altra. E questa sostituzione non è indolore? Quali conseguenze potrebbe portare? Non è indolore perché a soffrirne è appunto soprattutto la specie autoctona, che è meno, diciamo, lo scoiattolo rosso è meno attivo, se vogliamo, dello scoiattolo grigio, è più piccolo, quindi lo scoiattolo grigio va ad occupare la nicchia, la stessa nicchia ecologica e sostanzialmente vince la competizione. Ma dobbiamo noi sempre pensare all'introduzione di, mettiamo che l'ecosistema sia un puzzle, sostituendo un pezzo con un altro non salta solo il pezzo, ma salta un po' tutto il puzzle. Questo è sempre l'idea che noi anche cerchiamo di trasmettere anche ai bambini e ai ragazzi. Cioè non si ha solo una sostituzione di una specie con un'altra e finisce lì, ma è la sostituzione di un tassello fondamentale che va a sconvolgere l'intero quadro. Con anche dei danni anche a livello economico. Con dei danni a livello economico, esattamente. Essendo una specie molto più vorace e con dei comportamenti alimentari diversi, dallo scogliattolo rosso, il grigio per esempio va a creare danni ingenti anche alle coltivazioni di nocciole. Che sembra una... però è così. Quindi diciamo ecco, ma poi sì, economiche, ma anche ci sono molte interazioni che tra l'altro devono essere ancora ben documentate e ben studiate che diciamo vengono alterate dall'introduzione di una specie all'octona.